Parte oggi da Chieti il progetto europeo denominato con l'acronimo MAGIC, presentato dalla Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e redatto in collaborazione con la P&F Technology per sviluppare tecnologia a favore del recupero dei pazienti colpiti da ICTUS. MAGIC, finanziato con oltre 5 milioni di euro e che impegnerà per 52 mesi la D'Annunzio e gli altri partner europei, università e strutture ospedaliere, è un progetto rivoluzionario all'avanguardia per la gestione delle cure riabilitative, interamente basato su un approccio che mette al centro la persona. L'impatto del progetto è duplice, si finanziano le aziende che creano innovazione tecnologica, producendo anche comparti aziendali innovativi e si dota la struttura sanitaria locale in maniera gratuita di tecnologie riabilitative avanzate. Alla fine dei 5 anni darà la produzione di uno strumento innovativo che verrà applicato in tutta Europa e che si ribalterà anche sul territorio italiano, in particolare sull'Abruzzo, proprio perché noi siamo capofila in questo, creando la disponibilità per la popolazione abruzzese, un modello strumentale che è in grado di interfacciarsi con i deficit che noi sappiamo innescarsi e soprattutto venire a rendersi evidenti gradualmente, così da mettere in condizioni il soggetto che quando esce da strutture raffinate scientificamente, da un punto di vista terapeutico, come questa, dove ha recuperato, poi non perda.